Guardi qua, il Mussolini. Ok, siamo qua, Gran Sasso, e praticamente abbiamo fatto funevia per arrivare al campo imperatore dove c'è stato prigionato Mussolini, il duca, il duco, all'albergo, nel 1947, cioè il tedesco incontro di una parola, il periodo, una famosa con il doppio scusetto. Questo vale un po', però, non so, ma 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 non so. Una bella giornata, questo è 6 luglio 2012, Jackie Sim, Flavio Ficadenti, vecchi amici della Bromio. Ok.